Una brutta storia, una probabile violenza di gruppo, vittima una trentenne che in un casolare della Valdichiana sarebbe stata ripetutamente violentata, forse da più persone, tre in particolare, probabilmente non italiani, si parla di nordafricani. Il fatto risale a mercoledì scorso, a trovarla sarebbe stato un passante che ha convinto la ragazza a rivolgersi al pronto soccorso. I chiari segni di violenza hanno attivato il codice rosa all'interno dell'ospedale Aretino, dove la ragazza ha ricevuto le prime cure ed il sostegno psicologico. Del caso si occupa la squadra mobile di Arezzo con agenti specializzati in casi di violenze ed è stata informata anche la procura che ha al suo interno uno speciale pool che si occupa di abusi sessuali. Gli agenti avrebbero individuato il luogo dove la ragazza è stata sequestrata e pare anche violentata ripetutamente. In caso di conferma i suoi oguzzini sarebbero accusati di sequestro di persona e violenza sessuale.